E salve a tutti ragazzi eccoci qui tornati con un nuovo episodio di Guilt allora purtroppo e dico purtroppo mancherà una parte che è lo scontro con il mostro del teatro vabbè vi racconto che praticamente entriamo nel teatro il video è andato male perché purtroppo c'è stato un problema con la registrazione vabbè siamo entrati nel teatro Emily era chiaramente nel teatro l'abbiamo salvata però non è stata molto entusiasta di vederci e ci ha lanciato addosso dei mostri famelici spero che questa registrazione venga bene se no ci tocca organizzarsi diversamente per finire sto gioco magari farlo live perché appunto OBS non è della stessa come dire non è d'accordo con noi allora forse dobbiamo andare di qua non lo so perché ha deciso ha deciso di fare quella cosa adesso credo di essere riuscito a risettarlo decentemente speriamo bene speriamo mi dispiace per quell'episodio però purtroppo ragazzi ho avuto problemi col secondo pc che è andato a farsi benedire e quindi ho dovuto rimpostare OBS probabilmente regà qualcosa è andato è andato storto è inquietante diciamo non vi ho fatto la solita pantonimia che vi ho ringraziato del tempo di visualizzazione e quant'altro ma lo sapete diciamo è un come dire allora era capricciante non lo indesserò ma forse può tornarmi utile allora questa è sicuramente una sala che dovremmo andare a magari riutilizzare probabilmente in futuro perché lì sopra vediamo giusto per capire allora forse quella è riutilizzabile vediamo un attimo ah guardate questa è la chiave del ripostiglio dove tengo nel materiale artistico forse posso trovare qualcosa di utile chiave del ripostiglio vedete che girando ripostiglio artistico dove cavolo è il ripostiglio artistico adesso mi hai detto tutto e non mi hai detto niente magari concludiamo qualcosa dai comunque ragazzi vabbè facciamo una cosa siccome abbiamo girato abbastanza qualcosa abbiamo trovato abbiamo trovato questa chiave di questo ripostiglio artistico vediamo di andare avanti nel prossimo episodio come al solito vi invito a iscrivervi al canale a lasciare un bel like a commentare a condividere attivare la campanella dei notifichi non perdere gli altri video e supportare serie e canale aiutateci col tempo di visualizzazione guardate i canali che vi lascio sotto in descrizione vi ricordo gli appuntamenti su Twitch il martedì o il giovedì dalle ore 22 e 15 venite a vedere che cosa facciamo non vi spoilero niente venite venite e noi ragazzi ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao a tutti